Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea. Uno sguardo acuto e spietato sui complessi meccanismi che regolano le relazioni tra uomini e donne, esplorando le illusioni e le aspettative che spesso condizionano la vita di coppia. Attraverso storie intrecciate, si dipinge una realtà in cui l'amore si rivela fragile e le dinamiche di potere, incomprensioni e disillusioni assumono un ruolo centrale. Il libro invita il lettore a riflettere sulle proprie relazioni e sul peso delle aspettative e delle illusioni, offrendo una rappresentazione autentica e provocatoria dell'amore moderno. La trama del libro Quando ormai era tardi della scrittrice Claire Keegan, pubblicato dalla casa editrice in Audi, è la seguente. Era quello il problema, quando le donne si dissamoravano, il velo di romanticismo che avevano davanti agli occhi cadeva, e quando guardavano oltre erano in grado di leggerti dentro. Dall'autrice di piccole cose da nulla e un'estate, una fotografia inquieta e perturbante delle relazioni tra uomini e donne. Un giorno, tornando dal lavoro, Katal trova la casa vuota. Eppure era tutto pronto per il matrimonio, che cosa è andato storto? Soprattutto, di chi è la colpa? Una scrittrice prende possesso della residenza dove trascorrerà un breve ritiro, la stessa in cui Heinrich Boll ha lavorato ai suoi diari. Sembra lo scenario perfetto, almeno fino a quando la presunzione di un uomo non getterà un'ombra su quei giorni. Una donna felicemente sposata cerca un'avventura, vuole provare il sesso con un altro. Ritroverà il brivido dell'eccitazione. Ma a quale prezzo? Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.